Una prestazione di livello assoluto, rovinata in parte da un'espulsione evitabile, ma comunque da un certo punto di vista sono anche contento perché la squadra, anche in dieci, è stata in campo molto molto bene. Ha sbagliato probabilmente anche per merito loro solo nell'occasione del gol dove loro hanno messo una mezza punta dietro le due punte, questo ha fatto una bella verticalizzazione per il taglio e loro sono andati in porta a quel modo lì. Ma anche dopo che mancava ancora una mezz'ora, penso dopo il gol, la squadra non ha rischiato molto, ha rischiato poco in contropiede e ha cercato di fare gol e di stare comunque in partita sempre e poi è stata premiata da quel fatto lì alla fine.